buonasera buonasera a tutti benvenuti benvenuto ovviamente a marco mistiroli a paola gallo con questa sera parleremo dell'ultimo libro proprio uscito da da poco 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 di marco mistiroli avere tutto io cercherò di essere bravissimo brevissimo anche se questo un libro pieno di cose pieno di personaggi di temi di questioni perché vorrei dare la parola subito a marco però vorrei dire una cosa che secondo me questo ci capita ogni tanto quando leggiamo gli scrittori che hanno già una storia dietro di loro di guardare le loro biografie di mettere in fila i libri e di vedere che ci sono stati delle punte dei cambi di traiettoria dei passi avanti dei passi indietro secondo me questo tuo libro è un passo indietro per andare quattro passi avanti mi spiego perché perché da un certo punto di vista è un ritorno alle cose che sono veramente importanti al cuore della tua scrittura di quello che forse è l'urgenza il motore per cui si scrive e però la compiutezza la forma che trovi la forza di questo libro lo rende per me forse il tuo libro più bello quindi scopro le carte subito perché dico ci sono le cose più più importanti della scrittura di marco voglio nominare solo tre il tema sicuramente la storia il cuore l'urgenza che è il rapporto tra il padre e il figlio che è un tema che attraversa la tua narrativa in alcuni libri esce di più ma qui esce compiutamente e con una maturità definitiva perché c'è Rimini che è luogo delle radici ma è anche paesaggio immaginato è una Rimini che a me è banale dirlo ma mi ha ricordato proprio le foto di Ghirri perché di Ghirri ha il dettaglio precisissimo nel dirti quel posto qui ed ora insieme della capacità di evocare un sentimento più ampio un sentimento che è di tutti e poi una cosa bellissima che lo vedrete leggendo chi di voi l'ha già letto che tutti i tuoi personaggi da questo figlio sandro questo padre nando ma non sicuramente di meno i personaggi femminili e gli amici perché poi anche un grande romanzo di amicizie di questi maschi che stanno attorno al nostro protagonista è un romanzo di grandi personaggi perché i tuoi personaggi nascono da un mondo hanno delle radici e si costruiscono nelle relazioni adesso però non voglio dire di più perché vorrei chiederti la primissima cosa che salto hai fatto per arrivare a questo libro come ci sei arrivato quali sono i fantasmi con cui hai combattuto le tentazioni a cui hai ceduto di cui ti sei allontanato buonasera a tutti grazie che siete venuti alle nove di sera per me le nove di sera è come mezzanotte per cui è come stare infuso però sono contento che siano tutti qua grazie federica grazie paola e grazie veramente che siete venuti torino è la mia città d'adozione per cui ci tengo sempre sono emozionato come a farla rimini a milano io avevo tre incipit prima di questo romanzo avevo paura di distogliermi da il solco di quello che era stato il successo di atti osceni poi un altro incipit matto e poi queste righe su questo romanzo che mi sembravano un po un po tranquille rispetto alle altre questo è il passo indietro credo e ho fatto faccio lavoravo così lavoravo 6 7 righe per ogni incipito al giorno fino ad arrivare a 50 pagine ciascuno poi l'ho fatto leggere a mia moglie e mi ha detto che il primo era un po la stessa cosa che aveva già letto che il secondo era qualcosa che non andava bene perché era finto e il terzo era qualcosa che lei non sapeva dire perché sembrava che fossi io in persona ed era questo e allora gli ho detto cosa faccio le moglie hanno un grande potere sui insicuri e allora ho pensato vai avanti con due e mi ha tirato fuori quello che andava bene il primo e questo qua qui a 72 pagine come un razzo della nasa che lascia passare i razzi più piccoli la navicella che cadono ed è caduto l'altro e mi è rimasto questo quindi mi sono trovato con 70 pagine di questo romanzo tranquillo lei lo chiamava tranquillo mia moglie una che balla il tip tap quindi per lei tranquille come un rock'n'roll voglio dire è come per me un rock'n'roll per cui l'ho continuato senza avere l'ansia del plot ma solo avendo la cura della lingua e ho scoperto che la lingua genera il plot e quindi io non avevo ansia di fare niente di quello che dovevo fare solitamente io e il mio amico marco le chiamiamo le buste cioè devi avere l'idea di aprire una busta per sapere dove va il messaggio in cui non c'avevo niente e quindi il passo indietro è stato questo e l'ho scritto con grande lentezza sono passato alla penna tre quattro righe di penna al giorno e basta e sono arrivato alla fine non aveva niente di tutta la rumba che avevano gli altri almeno questo credevo allora dunque mi occupo della narrativa italiana delle inaudi quindi non aspetta a me dire se questo libro è buono non può essere l'oste a dire se il vino è buono però per noi questa è proprio una festa più che una presentazione perché ci sono delle cose nella vita di un autore che vanno festeggiate e secondo me questo libro lo è cioè è quel momento in cui senti che un autore bravissimo che ha fatto tanti libri bellissimi di successo a un certo punto ha trovato se stesso ha visto una cosa ha toccato un punto è come quando nasce un bambino una cosa che va festeggiata è una cosa molto forte che si sente molto forte dalla prima lettura cosa voglio dire allora io ho una domanda però devo raccontare un piccolo pezzo di storia per arrivare alla domanda allora il libro è arrivato e aveva un titolo si chiamava le cinque stagioni e abbiamo detto ma questo titolo però forse un po piano la pizzeria no? la pizza di misiroli cinque stagioni e poi leggendolo a un certo punto i titoli quasi sempre stanno nascosti dentro i libri a volte già proprio scritti chiari a volte da un po' da sistemare ma i libri di titoli molto spesso escono dai libri io dopo averlo letto ho detto a Marco ma senti ma secondo me il titolo è avere tutto e lui mi ha detto incredibile perché questo il file di lavoro si chiamava avere allora io ci ho pensato ho pensato ne ha parlato anche Vittorio Lingiardi oggi nella recensione che è uscita su Repubblica e c'è un libro a cui è impossibile non pensare leggendo questo che è Patrimonio di Philip Roth c'è una scena indimenticabile di Patrimonio in cui il protagonista che si sta rammaricando di aver rinunciato alla sua parte di eredità dopo una crisi in cui suo padre che sta malissimo è stato male si ritrova a pulire il bagno e portando via questi asciugamani queste cose sporche dice ecco qual era la mia eccolo il mio patrimonio il mio patrimonio è questo scusate ma insomma è filo proprio questo sacco di merda allora l'eredità è quella merda cos'è l'umano e allora io ho pensato che la differenza tra avere questo è un libro in cui si parla molto di soldi l'avere è un punto forte di questo libro però l'eredità è il tutto e che cos'è questo tutto è sovrumano che cos'è il tutto che condividono questo padre e questo figlio è un tutto io quando giocavo d'azzardo l'ho fatto per due anni e mezzo e per noi di quella categoria lì la questione di giocare era avere il soldo e io mi ricordo sempre che quando ero piccolo andavo in sala giochi o i miei mettevano i soldi nel macinino del caffè io andavo a mi arrampicavo e toccavo con i polpastrelli e avevo già assolutamente quella che si chiama scientificamente la conduttanza cutanea se vi nasce un figlio con la conduttanza cutanea rapida entro gli otto secondi preoccupatevi vuol dire che si bagnano i polpastrelli vuol dire che sono iperfrontali il cui cervello si irrora molto più velocemente degli altri vuol dire che recepiscono il linguaggio dell'adrenalina più di altri quindi avere tutto per me era quello e ricordo a Pasqua quando mia nonna arrivava con la busta dei soldi io ero in fibrillazione ne voglio ancora di più voglio avere tutto nonna gli dicevo questo qui ci rovinerà la vita mi ricordo mia nonna me lo diceva poi avere tutto si è spostato perché gli iperfrontali si spostano nelle dipendenze e io ho iniziato a scrivere libri e un libro è una scommessa enorme è un gioco molto grosso e mi ricordo quando ho iniziato a lavorare con Chiara Bellitia senza coda mi ricordo che mi disse tu però devi rischiare un po' di più perché sei troppo incentrato sulla tua figura sull'ombelico e devi andare sul mondo e allora io ho capito che il gioco d'azzaro sui libri era molto più pesante di qualsiasi altra questione e mi sono messo a lavorare sul tutto che poi ho abbracciato in questo libro tutto e vedere le cose come stanno per me avere tutto e vedere che mio babbo il 5 giugno 99 ha avuto un infarto ed è diventato un uomo tendenzialmente più morbido di prima più non è la parola inconsistente più anche femminio di prima nel senso di materno e quindi io mi sentivo più bambino è diventato un uomo più bambino io sono sentito padre di mio padre da quel momento lì avere tutto era raccontare questo passaggio qua mantenendo però e questa è stata la scommessa l'avere tutto dei soldi se io avessi fatto avere tutto del padre avrei fatto una storia probabilmente che era già stata raccontata ne avevamo parlato e invece bisognava fare avere tutto con tutte e due le anime però mi ha fatto male fare l'altra anima mi ricordo mia mamma che è una donna intelligente e quando l'ha letto ho detto madonna santa io avevo un po' intuito questa roba qua però sei bravo sei stato bravo gli ho detto sì ero uno dei migliori allora era contenta le mamme sono contenti anche se ti giochi qualsiasi cosa basta che vinci e mio papo disse alla fine allora ho capito quando morrò svuoterai i miei armadi fondamentalmente è un libro che guarda al passato ma guarda anche al futuro cioè le morti di tutti noi ma anche alle vite che ci rimangono e quindi me la sono giocata tutta 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 ma senti entra ancora un attimo se vuoi in questo mondo perché leggendolo poi dimmi tu se è una lettura giusta io ho avuto l'impressione che ci fossero due mondi che si parlavano un mondo che è quello suo dell'azzardo che è un azzardo particolare perché noi abbiamo tutta una tradizione letteraria che ci parla dei giocatori d'azzardo che va da Dostoievski anche il libro che mi hai consigliato quello bellissimo Baden-Baden senza saperlo tra l'altro vedi le sincronicità però tu attraversi questo mondo che è un mondo però di giocatori ossessionati e perdenti il tu non è un giocatore perdente e distruttivo è un giocatore costruttivo in realtà c'è un passaggio del libro che lui dice proprio lui vince perché domina il punto di rottura e questo in qualche modo ce lo caratterizza ci dice qualcosa di lui dominare il punto di rottura nel gioco d'azzardo è colui che si salva durante i terremoti in sostanza cioè i giapponesi che dominano il punto di rottura sono quelli che quando inizia a tremare la terra valutano in mi pare 9 secondi o 10 secondi il tavolino che regge di più che reggerà di più nel caso cadesse qualcosa sulla testa dominare il punto di rottura significa anche non pensare al gioco d'azzardo come gioco d'azzardo ma come azzardo cioè come conoscere se stessi nel punto integralista più alto di te stesso allora ho pensato il gioco d'azzardo non deve essere visto come tecnicismo ma come ingegneria di quel gioco e allora spiego alcune cose umane del gioco d'azzardo che è l'insieme di solitudini che si trovano un gioco d'azzardo meraviglioso è una giornata particolare di Ettore Scola dove lei e lui Sofia Loren e Marcello Mastroani si incontrano perché hanno due solitudini dello stesso peso e fanno un gioco d'azzardo perché non dovrebbero incontrarsi quella era la base umana del mio giocatore che andava ad esempio negli appartamenti una cosa molto divertente che a Milano per giocare bene d'azzardo devi andare in un buon appartamento i buoni appartamenti sono quelli sfitti e per avere un buon appartamento sfitto devi conoscere gli agenti immobiliari e per avere per conoscere gli agenti immobiliari devi essere nel giro da un po' ricevi una chiamata e ti dicono se sfitto questo appartamento su i più grandi sono nella zona solare di Milano al primo piano di via Montevideo c'è un tavolo ci sono un sacco di questioni di immobilio potete andare questa notte dai la stecca e vai a giocare questo in sostanza è quello che accade nel giro milanese vai a giocare con delle regole se è un tavolo espresso giochi espresso se è un tavolo diverso in questa guerra qua il pensiero del protagonista è alla cucina dei suoi genitori suo babbo e sua mamma che a Rimini cucinano il pesce il venerdì o la pia del sabato il libro si basa su questo contrasto quello che lasciamo nelle radici docile è molto sostanzioso è quello che butti via nella città grande che non è docile ma è purtroppo ugualmente sostanzioso però su questo ti chiedo ancora una cosa perché se da un lato c'è lui che gioca è la cosa più bella per me che non so niente dell'azzardo e quando tu ci racconti le emotività di chi gioca spiega anche cose lo svio però poi dici dall'altro lato perché il mondo che fa specchio un po' questo è il mondo del ballo invece che è l'esatto contrario è una da un certo punto di vista perché è un ballo a due il padre di Sandro è un ballerino provetto e soprattutto uno sia lui sia la madre che amano ballare che lo fanno sempre in coppie che c'è una parte sensuale una parte che imbarazza addirittura il figlio e che in qualche modo fa sempre per tutto il libro un po' da contrapeso a questo gioco invece solitario feroce e invece questo questo ballo che però contiene lo stesso germe in qualche modo è meraviglioso che tiri fuori il ballo perché il ballo in casa mia non c'è mai stato se non nella parte dei miei nonni come in tutti i nonni romagnoli però io ero in Sicilia con mio babbo perché mi hanno premiato per un libro passato lui era venuto con me e lui non aveva mai ballato è un ferroviere con le spalle da Robert Downey Jr. e la vita da farfalla quindi un bell'uomo però è un uomo molto dolce anche c'è non c'è il mio amico Giorgio Fontana dice che dov'è Sauro perché Sauro sparisce improvvisamente succede quando hai avuto il cuore che è stato male diventano invisibili ed eravamo stati in questo hotel il meraviglioso dove dietro ballavano veniva della musica country e c'erano delle persone che ballavano con i capelli da cowboy in Sicilia non c'entrava niente allora io sono andato un attimo dentro a prendere il telefono perché li volevo filmare mio padre era rimasto a guardarli e invece mi sono accorto che il telefono io ce l'avevo nella tasca allora sono tornato prima del previsto verso lui e mio babbo ha fatto una pirouette lui non sapeva che io lo guardavo ed è l'uomo più leggero che io avessi visto in vita mia l'uomo più divertito che avessi visto ha fatto una pirouette con le sue scarpe un po' da ferroviere ancora così e io non l'ho mai dimenticata quella pirouette tant'è che quando sono da solo io ballo da solo in casa perché se ballo davanti a mia moglie si disinnamora se ballo davanti a mia figlia non mi vuol più quindi cioè proprio da antiriminese io non so ballare però lui ha ballato così bene probabilmente mi ha inculcato una specie di eredità e io lo metto nei libri il ballo c'è quasi in tutti i miei libri il ballo e mi piace vedere gli uomini rigidi che muovono le scarpe così i romagnoli hanno tre velocità quella molto lenta quella di crociera e quella velocissima che si chiama sfunizzo lo sfunizzo è quando diventano predatori io sono un predatore loro sono predatori sfunizziamo costantemente e ballare è sempre stato davvero un nostro principio quindi ogni volta che lo metto sulla pagina mi parte la pagina e pensare che zero io se mi invitate a ballare piuttosto sto a casa quindi qualcosa c'è lo svio lo svio è quando entrate in un appartamento e andate per giocare dovete entro brevemente dovete scegliere un punto del nuovo appartamento dove fissarvi con lo sguardo solitamente un oggetto un cavatappi un finto caravaggio alla parete un pensile mai i corpi degli altri giocatori perché i corpi li dovete guardare quando inizia la partita perché è lì che li studiate prima dovete sviare sviare su un oggetto vi porta a rilassare la postura la sgranchite quindi non vi vedono se bleffate lo svio lo togliete lo distogliete solamente quando inizia la partita allora passate sui corpi dei giocatori i corpi dei giocatori mai a mazzo chiuso sempre a mazzo aperto avete paura di me ci sono dei miei alunni ci sono dei miei alunni qua allora lo ascoltate parlare capite allora stiamo cercando di non darvi troppi elementi perché il libro va veramente letto se non si fanno queste cose ma io se posso dare un consiglio scegliete un weekend in cui avete un po' di tempo questo è un libro che si gode particolarmente a una lettura concentrata stretta perché è un libro densissimo sembra difficile però non lo è è che non lo posi se lo posi si spiazza un po' di lettura tre ore e un quarto allora appunto io però vorrei vorrei fermarmi su questo modo che hai tu di parlare e di scrivere questa cosa dei dettagli e questo corpo a corpo con la lingua che è veramente personalissimo e che arriva qui in un punto di evidenza che secondo me non era negli altri romanzi così con questo grado di espressività e di rilevanza perché tu hai detto è la lingua che crea la storia qui davvero è la lingua che crea la storia perché questo è un libro in gran parte fatto di una relazione fra un padre e un figlio questo è un libro eminentemente maschile sono due figure piuttosto reticenti messe piuttosto brusche anche però romagnoli messi in dialogo per tutto il libro e questo loro dialogo è ha un suono particolarissimo e noi lo sappiamo Angela lo sappiamo abbiamo l'uso delle preposizioni di Marco Missiroli è una cosa che mette a dura prova l'editora prima lettura diciamo perché Marco la lingua la sfida la sfonda la cerca di usare l'adatta come se fosse uno strumento da usare che se il bravo artigiano ha una pialla tutta sua che è fatta a modo suo questa cosa è molto forte dentro questo romanzo ed è veramente è un modo per dire le cose che diventa le cose stesse io vengo da dunque diciamo tutta la verità nel senso che Atteoscene è il libro che mi ha portato sopra la testa sopra la sabbia però Atteoscene è una lingua non precisa ok non precisa vuol dire larga larga vuol dire che è frutto di un'energia che poi si è posata in maniera molto rapida sulla pagina a me questa cosa qui non mi andava bene io me ne sono accorto in un reading in Sardegna quando l'hanno letto e non mi piaceva la questione lo so che Atteoscene è un libro che piace però a livello linguistico c'erano dei buchi non so come dirlo insomma mi sto incazzando anche mentre parlo per questi buchi allora ho iniziato a dire a ragionare sul fatto di questa lingua che doveva essere più naturale senza caricare troppo e qui è venuto da solo quando pensavo mio babbo io mi faccio guidare da una questione i miei alunni lo sanno che si chiama struttura sentimentale se molli la struttura sentimentale la lingua cambia durante il romanzo ma se la tieni la lingua ti guida per tutto il romanzo quindi ho tenuto mio padre che ha avuto un episodio quando aveva 15 anni importante era nel campo con il padre a Ravenna sistemava le pesche e era già tutto pronto per fare il geometra il geometra negli anni nel 65 era come da noi qualcosa di incredibile come web designer come qualcosa e lui era pronto aveva messo tutti i suoi risparmi per comprare tutto il tavolo le righe e passa sto stronzo che è un ingegnere molto importante nel suo paesino che gli dice che mentre guarda il padre sistemare le pesche si rivolge a lui gli dice guarda non gli far fare geometra gli fargli far perito perché i periti trovano subito lavoro no? cazzo mio babbo è andato a far perito e tutta la vita ha vissuto col delta di quello che avrebbe dovuto fare quindi col condizionale vivere col condizionale è un casino e quindi io l'ho riscattato gli ho fatto fare un salto sul vero e proprio nel libro per cui a suo modo lui ha saltato chi non ha fatto quel salto del fosso perché l'ingegnere è rimasto di là e lui è rimasto di qua per paura io nel libro l'ho fatto saltare gli ho fatto saltare il fosso e quella condizione lì era dettata solo dalla lingua perché quando lo pensavo e quando pensavo al coraggio che non gli è stato dato per rimanere a fare perito geometra a quel punto lì ho pensato te gli devi far dire le cose come si dicono nella vita quindi usando una lingua che come parla lui in italo-riminese come parliamo a noi a Rimini e la lingua gli ha dato il coraggio di fare quel salto in sostanza è stato questo questa cosa della lingua è molto bella perché è una delle cose che concorre a dare un corpo grande ai personaggi tu adesso stai raccontando delle cose di questo personaggio del padre del protagonista che è un grande personaggio ma non solo per le cose che tu racconti perché ogni volta che noi cerchiamo di vederlo in un modo sterza da un l'altro ci illumini un lato scuro una cosa molto bella che io credo che concorre a darci questa sensazione di concretezza che la sentiamo anche nei personaggi minori in tutti quegli amici che crescono pian piano nel romanzo e che escono nella parte finale che compaiono a volte per poche pagine con un gesto con una piccola cosa però che basta a farceli vedere fisicamente e questo è un tratto della geografia io sento perché questo è un tuo romanzo molto radicato nella geografia lo è in Rimini come lo è altrettanto in Milano nelle piccole puntate che tu fai su Milano dici poche frasi Milano è la città dove i figli cambiano dicono dal punto di vista dei figli è la città dove non si gioca mai di notte perché poi ce lo racconterai quanto ha giocato per quanto è importante per te la geografia quando scrivi e quanto l'è stato in questo romanzo che forse è il più ancorato a terra dei tuoi libri è cruciale la geografia proprio mi genera le tipologie di romanzo la geografia di dove è ambientato e dove lo scrivo questo romanzo qui è stato scritto per via del lockdown anche nella cucina di dove è ambientato e si vede perché io mentre lo scrivo vedevo mio padre che cucinava cucina da quando in pensione quindi ha delle mani molto importanti nella cucina e si vedeva tantissimo e l'ho scritto in un bar che è il bar dove vanno molto spesso anche loro per cui questa roba qua è stata assorbita e poi l'ho scritta a Torino io il romanzo l'ho finito a San George l'ho detto l'ho scritto l'ho scritto alla camera 21 al San George me l'hanno intitolata spero e quindi ha molto Torino è stato proprio scritto tanto Torino allora mi sono chiesto come mai perché ha una quiete come Rimini che Milano invece è stata attribuita al gioco e basta quindi è come se Milano avesse avuto un ritmo che guidava il gioco e tutto il resto la depurazione avveniva a Rimini e avveniva a Torino anche se non è citato chissà come mai i riminesi si trovano molto bene a Torino forse li calma non lo so li seda però è lo svio sì probabilmente è lo svio sì è lo svio dell'anima però insomma la geografia è fondamentale e poi l'ho dedicato a Rimini era il momento di giocarmela su Rimini in maniera più universale possibile e giocarmela nella Rimini di Zurlini e non in quella di Fellini mi sono un po' stancato di dirmi di associarmi a Fellini e cose del genere che portano anche un po' sfiga è Zurlini quindi la prima notte di quiete se dobbiamo trovare qualcosa legata a Rimini per farvi capire il cappotto di Alain Delon quando cammina sulla palata è sempre è brava o troppo in anticipo o troppo in ritardo è sempre fuori tempo è sempre il fuori tempo quello lì e infatti la Rimini che c'è qua dentro è quella prevalentemente dei noi riminesi non dei turisti io volevo farti una domanda sulla struttura il libro ha una struttura molto particolare ha un inizio che può sembrare persino spiazzante alla fine è una struttura a chiasmo per cui c'è una linea che è questa linea del rapporto col padre non so quanto dire ma insomma la linea del rapporto col padre che in qualche modo va a scendere e la linea del gioco che in qualche modo va a salire che si impenna quando la prima parabola arriva alla sua fine e ci sono diversi punti di intersecazione fra queste due direttrici che sono all'inizio spiazzanti poi cominciano a riverberare in modo potentissimo e danno un ritmo molto molto incalzante al racconto però ci sono anche tante omissioni ci sono tanti salti logici e ho trovato una frase che mi ha colpito tu scrivi l'intermittenza della vita è cominciata appena le donne sono uscite dalle nostre storie e allora ho pensato questo è proprio l'intermittenza è una delle forme di questo libro e questo è un libro io direi completamente maschile è molto raro uno scrittore che ha il coraggio di non usare un personaggio femminile per addolcire per cioè qui siamo dentro l'interiorità maschile è raccontata con una tenerezza e una rubidità così sincere e così forti che non possono non emozionare e le donne sono fuori poi ho visto che tu nelle interviste dici no non è vero senza Caterina però non è vero perché le donne sono fuori sono degli agenti dei reagenti ma sono esterne a questa dinamica e allora questa forma c'entra con questa cosa è una domanda perfida non me l'aspettavo in verità le donne sono mancano e quando mancano il movente più grande è la mancanza quindi tanto non ci sono tanto ci sono perché non ci sono ed è stato difficile costruire donne che non ci sono ma ci sono come dei delle trazioni totale quindi in verità è un libro votato al maschile che cerca il femminile non ce l'ha e quindi è una dannazione pazzesca quando tu vorresti ritrovare la continuità delle tue storie ma non hai le donne che hai perso hanno perso Caterina che era la madre e la mamma hanno perso Giulia che era la fidanzata e quindi è un libro maschile che trova nel maschile la scialuppa ma non la nave di crociera e questo è il dramma e quando tu sei in scialuppa tra uomini ti diverti però non c'è isteria questo va subito da Murgia c'è Murgia qua? no c'è Bagnoli qua? no allora possiamo parlarne non twittate perché sennò avrei un sacco di merda domani la scialuppa tra uomini è molto più divertente che la scialuppa tra uomini e donne tra donne perché qualcuna finisce in acqua invece così si beve per esempio oppure si rema con le mani e quindi ho cercato di mettere insieme quel giorno in cui io torno a Rimini che è il 23 di dicembre e dovunque io si dico gli altri ci vediamo il pub ci vediamo il pub ci sono tutti ci sono e ci troviamo tutti maschi tutti anzi hashtag tutti maschi nel pub di Rimini al 365 e parliamo di tutte le vite che sono accorse dal 23 di dicembre dell'anno prima al 23 di dicembre dell'anno dopo e quello lì per me è la salvezza quindi se questo è essere maschilista io sì sono maschilista va bene ma quello che voglio dire della struttura è un'altra cosa quando c'è stato un momento in cui andava molto di moda fare i capitoli molto lunghi derivava dalle correzioni di Franzen cioè a un certo punto il grande obiettivo di tutti era riuscire a fare un minimo di 45 pagine di filate me lo disse Jonathan Safran Foer in privato mi disse dopo il grande romanzo americano chi l'ha scritto e l'ho mese che è uscito nel 2001 tutti hanno tentato con le correzioni hanno tentato di fare i capitoli di almeno 40 pagine che si autoalimentavano è una cosa molto difficile da fare però mi annoiava quella roba lì allora leggendo invece l'ultimo di Franzen che è un The Crossroad che è un grosso libro secondo me molto bello pensai che non ci sarei mai riuscito a rifarlo allora dovevo dire il contrario dovevo scomporre la struttura quindi sono tre storie legatissime una con l'altra ma intervallato come la tastiera di un pianoforte in cui i tasti neri ogni tanto intervengono rispetto ai tasti bianchi però i tasti neri aiutano a raccontare quello che raccontano i tasti bianchi e questa è stata l'intuizione e non sono staccati dai tasti bianchi questo cosa fa permette di rompere il ritmo ma di nutrire il ritmo stesso ed è una cosa che ho scoperto di riuscire a fare mentre la stavo facendo e soprattutto leggendo la voce alta lo dico sempre bisogna leggere i libri la voce alta c'è un sacco di fisico perché ti consuma però è l'unico modo per trovare le cose le magagne che non vanno insomma questo non toglie che vorrei essere Jonathan Franzen ovviamente ti chiedo un'altra cosa del backstage sempre per stare su questo elemento della struttura perché è una cosa veramente mirabile nel tuo libro in più che un crescendo perché questi fili si intervallano con una sequenza sempre più accelerata e noi che leggiamo passiamo in modo però molto morbido perché se c'è un elemento io sono d'accordo con Paola che questo è un libro maschile di storie di amicizie di padre e figli eminentemente maschile però se c'è un elemento femminile è invece nella tua scrittura nella dolcezza con cui anche tieni l'equilibrio da un passaggio all'altro adesso ce lo stai un po' raccontando mentre parli citi dei libri li racconti io volevo chiederti quanto e come ci hai lavorato per ottenere questo bilanciamento della struttura come ci sei arrivato se l'hai montato dopo come l'hai montato come è andato avanti quali sono stati un po' i nomi tutelari a cui tu guardavi mentre scrivevi sei uno di quegli autori che mentre scrivono non leggono una riga o ok dei compagni di viaggio no leggo cose diverse o leggo saggistica che non c'entra niente a volte mi capitano gli stranieri perché gli stranieri ad esempio sono molto mi aiutano tanto perché raccontano hanno strutture completamente diverse e quindi leggo romanzi che non c'entrano niente con me però la struttura a me è arrivata perché non avevo voglia di annoiarmi perché mi ero annoiato in alcuni dei miei libri a tenere una struttura grande invece qua spezzando mi rilanciavo io stesso come scrittore e ho capito che se uno scrittore non si annoia scrivendo probabilmente non annoierà neanche il lettore non è detto dipende dall'ego dello scrittore però io ho un ego abbastanza moderato da 1 a 10 6 e mezzo me lo dice mia moglie 1 a 10 6 e mezzo quindi è 6 e mezzo secondo me anche 7 vabbè però l'8 non ci arrivo ve lo giuro e quindi avevo abbastanza auto visione poi ho avuto molti occhi che hanno lavorato questo questo libro e gli occhi sono stati Starnone Chiara Bellitti Angela Rastelli Paola Gallo c'è stato un lavoro di più occhi e secondo me alla fine la letteratura è una democrazia quindi te devi accogliere più occhi possibili di quelli di cui ti fidi e alla fine abbiamo lavorato e poi mi sono chiuso io ho visto le frenate che non andavano bene il problema era le frenate cioè quando un pezzettino frenava troppo e non dava il lancio a quello dopo allora si sposta e allora si mette e l'ultimo l'abbiamo fatto con Angela invertendo una roba e stavo diventando pazzo perché frenava troppo poco quindi l'ho girata è tutto così e poi pensate come fa uno ad avere i figli con questa testa qui cioè come fai per dirvi che un libro è veramente una geografia molto complicata però se hai la struttura sentimentale che ti guida questa cosa qui la sopporti se no non ce la fai non lo sopporti insomma lo metti via ma senti invece di struttura sentimentale c'è un passaggio nel tuo libro perché sembra un libro dove non c'è dell'innamoramento mentre nei tuoi libri l'innamoramento è un motore forte e a un certo punto però c'è un passaggio in cui ci fa intravedere una cosa in cui il nostro protagonista Sandro parla col padre e gli dice ma tu che pur giochi a carte mi hai insegnato a giocare alla fine non hai ceduto al vizio e lui gli dice io avevo le ragazze e a un certo punto lui giocando racconta le sue emozioni dice se parti bene poi se le prime partite ti portano bene poi diventi addict dal gioco è un po' come l'innamoramento è come se tu hai la prima storia amorosa va molto bene pensi che l'amore sia tutto così poi in verità capisci dopo che te la prenderai diciamo in mezzo agli occhi o da qualche altra parte oppure magari ti va veramente dritta la questione purtroppo nel gioco la più grande sfortuna è che i primi due o tre tavoli ti vanno bene perché se ti vanno bene tu credi di fottere il banco ma il banco vince sempre puoi limitare i danni se sei bravo quindi il protagonista il protagonista va bene nei primi tavoli e paradossalmente al padre va molto bene in amore perché trova la donna della sua vita in una ballera a Milano Marittima autobiografica il 22 novembre aspettando tutto il tempo di chiederle di ballare poi ce la fa e li va dritto e a lui va dritto col tavolo come la mettiamo? il padre gli dice perché ti sei innamorato e l'altro gli risponde del tavolo e l'altro gli risponde perché ti sei innamorato di tua moglie e te è la stessa identica cosa infatti nei grandi giocatori quelli proprio bravi quelli proprio permeati e quelli scalcagnati quindi quando giochi non c'è tanto spazio per altre questioni e se sei tanto innamorato di una donna è faticoso che si insinui il gioco in te in nascita è tremendo se il gioco si insinui te quando non hai niente per compensare a questa cosa qua ma non vi voglio tediare sulla grande eccitazione di giocare d'azzardo e non vi voglio neanche tediare che lo dovreste provare tutti prima o poi senti io vorrei parlare di soldi un minuto cioè questa cosa io non me lo ricordavo questo rileggendolo l'ho visto mi ricordavo questa cosa che abbiamo scritto anche in quarta copertina questo gioco che questo padre e questo figlio fanno c'è un tempo lungo da passare ci sono tante serate tanti momenti da riempire uno dei loro giochi che è aspetta che lo leggo giusto dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno però poi guardando dentro il libro di questi giochi ce ne sono più di uno cioè l'ho segnati quanto paghi per? il tuo poker cosa chiedi di doppio? cioè allora poi però a un certo punto allora ti dici è passata dentro questa famiglia questa cosa dei soldi come una cosa molto importante non valore poi però il padre gli dice quelli veri soldi veri puoi sputtanarteli tutti gli dice allora questi non sono soldi sono sogni che cosa sono? perché l'unità di misura della provincia e di certe famiglie inizia a essere l'economia soprattutto le famiglie proletarie quando in verità per parlare di altro si parla attraverso i soldi cosa faresti con un milione di euro in più? gli sta chiedendo che cosa faresti se fossi libero davvero se non dovessi lavorare se facessi i tuoi sogni cosa faresti con vent'anni in meno? significa che cosa avresti fatto se avessi avuto il coraggio? il soldo è una copertura per raccontare di molto altro e la domanda che passa nel romanzo come i giochi che passano viene da due cose una è che io sono fissata ai giochi tipo i miei amici non mi sopportano ogni tanto lo faccio dimmi tre cose che ti piacciono ma dal niente mentre parliamo magari di Rochko dimmi tre cose che ti piacciono non c'entra questi qui non sanno cosa dire oppure gli dico cosa faresti con un milione di euro adesso oppure se ti do 5 milioni di euro la lasci tua moglie tutto così sono ma è un continuo molesto molesto ma Fontana non ce la fa più poveraccio Giorgio Fontana che è una persona molto seria anche mia moglie continuamente ma tu un milione di euro mi lascia andare via due settimane senza la bambina tutto così per un Balenciaga mi lascia andare via di qua oppure tutto così la mia vita è sempre così non lo faccio ai miei studenti perché lo faccio attraverso gli esercizi che gli do per esempio se no continuerei tutta la vita è un fattore per la curiosità sul mondo per l'umano perché mi vergogno un po' chiedere le domande dritto per dritto allora lo faccio con i giochi enigmistici e non c'è niente da fare sono così appena un po' di confidenza gli sfondo le persone proprio è un continuo ad esempio qua in mezzo qualcuno l'ho già preso di mira per continuare soprattutto laggiù dai miei ragazzi senti c'è un altro tema che è molto sotto traccia perché poi questa cosa che dicevi del pudore sembra strano dirlo di Marco che voi lo sentite cui parlare non ha nessuna remora ha un lato romagnolo che non ha nessuna remora a raccontare i libri però secondo me il tuo libro è anche attraversato da una grande timidezza dei personaggi poi sono sempre un passo indietro nel dire le cose nel parlarsi tra di loro e volevo chiederti questa timidezza poi come come si parla con un altro tema che è sotteso e mi hai detto che è il tema della libertà lui fino all'ultimo insegue la libertà e a un certo punto ce l'ha diventa libero ma a che prezzo perché la timidezza è una questione importante viene dal corpo come sempre la mia parte letteraria più importante quando torno a casa Rimini c'è mia mamma e mio babbo che mi aspettano hanno più di 70 anni non è che ci tocchiamo subito quindi bisogna aspettare un po' prima di toccarsi e ho dei porti franchi dove toccare mio padre mio padre lo tocco qua dietro un punto abbastanza duro del collo credo sa anche sia snervato lui non sente bene lì quindi a me mi fa comodo toccarlo lì perché non gli provo con una reazione affettiva di cui non sarei pronto e mia madre invece gli sfioro i capelli oppure gli tocco la punta della spalla una donna perché se gli dai di più ti abbraccia tanto quindi non sono pronto neanch'io man mano che sto lì questo succede il giovedì il sabato invece li tocco perché ho preso della confidenza e la confidenza fa parte con la libertà che ho affettiva quindi è dal corpo che passa come ogni volta la mia libertà e la libertà dei miei personaggi però ci vuole tanto tempo quindi il libro è nato secondo un sistema di ruggine continuativo cioè all'inizio il libro è intimidito e man mano che loro due si conoscono si riconoscono anzi si riappartengono si scioglie il libro quindi si scalda tant'è che avevamo un grande dubbio sull'incipit perché a me l'incipit era troppo secco era l'incipit iniziale era mi chiama mentre sono all'esse lunga di via Ripamonti Milano l'abbiamo cambiato mi chiama mentre sono al supermercato poi pensavamo diciamo però il libro è più lirico qui non appare lirico allora parlavo con Angela poi con Chiara con Paola mi dicevo però non c'è bisogno perché rappresenta esattamente il punto di partenza della loro timidezza succede così e man mano si scalderà infatti alla fine è un fiume che si riempie e niente i libri fanno quello che vogliono alla fine però scusa l'hai scaldato a riga uno e mezzo perché a riga uno e mezzo lui dice il padre gli telefona lo saluto lui si raschia la gola ma non parla so che gira di notte con la Reno 5 sì qualcosa ci va bene mangiare insipido ma da qualche parte qualcosa devi metterlo e quello lì poi mi piace moltissimo perché che bello un uomo che va via la notte libero perché non ha nessuno che lo traccia un uomo di 70 anni che non ha più il figlio perché vive a Milano non ha la moglie perché è morta e va in giro con la Reno 5 di notte ma se mio babbo lo facesse io sarei felicissimo di questa cosa qua però invece sta in casa ma che ne sai hai ragione grazie 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 a tutti.